Musica, eventi, teatro, arte, libri e incontri. Tornano gli itinerari estivi di cultura sostenibile di suoni contro vento, che animeranno l'estate fino al prossimo mese di settembre. Un itinerario culturale che abbraccia un'intera regione, 21 comuni, 30 luoghi ed oltre 50 eventi. Anche quest'anno girerà tutta l'Umbria con i suoi eventi, dal nord al sud, ben 21 comuni e Umbria aderiscono alla rete del festival. Siamo alla settima edizione, normalmente nelle relazioni, il settimo è un anno di crisi, invece qui festeggiamo sette anni fantastici. Quest'anno il festival è di uno splendore unico per la quantità, la qualità degli eventi, la costruzione di ogni singolo progetto sugli spazi. Siamo molto soddisfatti, ci sono a partire del 15 luglio con Nordgren sul valico di Folcacanapine, fino ad arrivare al concerto di Frida Boulani-Magoni a Stifone, una scarellata di concerti in tutti i luoghi straordinari, anche in piazze, nei borghi notturni, con comunità molto coinvolte. E' uno degli aspetti che più ci interessa nel festival, non soltanto fare grande musica, ma anche che questa grande musica sia che entri nel cuore delle comunità. Ed è sempre un risultato che poi riusciamo a fare, e siamo contenti anche per quest'anno, le programmazioni che abbiamo messo in piedi.